Io vorrei precisare questo aspetto, poiché i tempi oggi non consentono di fare passi falsi, amministrativamente parlando sul progetto questa è la mia terra, c'è stato qualche errore procedurale che avrebbe potuto esporre il comune ad un esborso di somme che in questo momento non ci possiamo consentire. Per cui lì abbiamo tempo, il progetto scade il 31 maggio, il bando, per cui abbiamo tempo adesso di rifare gli atti nuovamente cercando di non sbagliare niente e quindi accedendo sicuramente al finanziamento. Quando poi alle varie festività di Natale stiamo in questo momento con l'assessore Romano e gli altri collaboratori accingendo un programma, ci sono delle commedie dell'azione cattolica sia di San Bodito che di Santa Diutore che si terranno presso il teatro Nicodemo di Vito, poi stanno a Valle il presepe vivente con i mercatini di Natale. Ci saranno due serate organizzate dai locali di Via Roma a cui noi abbiamo fornito i DJ per le serate del 24 e del 31, ci sarà ancora il bacio del bambino organizzato dalla Prologo più qualche altro evento. Voglio dire che nonostante anche con somme di poca entità si riuscirà ad organizzare un buon cartellone festivo. Grazie a tutti.